Amici del Portè del Verde buongiorno ben ritrovati ancora una volta oggi parleremo di che cosa di calle, calle perché è sicuramente la mia passione principale all'interno della grande passione del giardinaggio le calle sicuramente sono quella pianta che conosco meglio quella pianta che ne ho prodotti o meglio ho propagato più piante in assoluto perché avrò regalato centinaia veramente senza esagerare di piante e qui da vedere guardate quest'anno purtroppo il mio laghetto è soggetto a manutenzione straordinaria perché ho deciso di eliminare la tifa e quello che vedete non è altro che il risultato delle ultime piogge ma ho chiuso le acque ormai da mesi quindi non fate caso quello che vedete al disordine che c'è perché è voluto dal fatto che appunto voglio strappare questa pianta ma oggi volevo parlarvi di calle guardate cosa c'è qui allora la signorina chiamiamo la signorina che è una bellissima calla colorata è stato oggetto di un video di tre anni fa se andate qui nel mio canale cercate appunto differenza fra calle colorate e calle bianche vedrete proprio un video dove parlo di questa calla ma sono già passati tre anni e tre anni fa dicevo che ormai era già 4 5 anni che l'avevo messa a dimora e non faceva più di 1 2 3 fiori e lì appunto facevo vedere il confronto impari con questa che è la pianta madre che ho qui di fianco adesso è sfiorita ma se lo guardate quel video vi accorgete che qui c'erano centinaia di calle mentre qui vi era un fiore ecco bene oggi volevo farvi vedere che la virtù più più grande che hanno la più forte che hanno i vivaisti ovvero la pazienza da comunque sempre i suoi frutti bisogna avere pazienza con le piante ma soprattutto con le calle colorate le calle colorate hanno una tempistica completamente diversa rispetto alle altre calle guardate ormai sono passati altri tre anni quindi vuol dire che questa calla ha otto anni ma adesso ve la faccio vedere bene guardate alla fine cosa è successo sicuramente anche lei è diventata più grossa è logico ci ha messo molto ma molto più tempo il confronto vedete è sempre impari rispetto alla calla bianca però anche lei comincia a dare soddisfazione io ho già raccolto e ce li ho nel vaso in casa otto fiori e qui ce ne sono ancora guardate uno due tre quattro cinque sei sette otto ma non è finita perché guardate ne arrivano anche dietro ce ne sono ancora quindi che dire volevo farvi vedere questa guardate tra l'altro che bello questo fiore doppio questo succede raramente ma guardate che meraviglia questo fiore ecco io non sono un amante delle calle colorate tanti veramente coltivano solo quelle quelle gialle soprattutto o piuttosto che queste che sono quelle viola io è l'unica pianta che ho però oggi mi sento di spendere una parola per questa pianta perché ce la sta mettendo veramente tutta e oggi così passeggiando qui nel mio laghetto l'ho proprio notata questa cosa ho visto questa pianta che a dispetto del fatto che io comunque non li sto proprio facendo nulla lei ce la mette tutta per darmi soddisfazione quindi volevo condividerlo con voi a tutti quelli che mi rivolgono spesso le domande sulle calle colorate colgo l'occasione con questo breve video per ribadire questo concetto la calla colorata è un ibrido quindi è meno forte passatemi il termine rispetto alla calla bianca la calla bianca la mettete giù non dovete fare nient'altro che già il primo anno andare a raccogliere i fiori con la calla colorata avete innanzitutto la dimensione dei fiori molto più contenuta guardate il fiore di questa calla com'è piccolo vedete nella mia mano è molto più raccolta è molto più chiusa la brata è molto più chiusa adesso vediamo se si eccola qua che si vede la brata è molto più chiusa rispetto alla calla qui c'è ecco qui c'è ancora un fiore adesso ormai rovinato guardate questa calla bianca vedete come molto più aperto il fiore rispetto alla calla colorata dicevo molto più chiuso ma soprattutto abbiamo anche il gambo molto più esile è tutto in miniatura rispetto alla calla bianca ed è sicuramente più delicata è una pianta che perciò dobbiamo avere rispetto soprattutto dei suoi tempi dagli fiducia e alla fine anche lei come avete visto ci può ampiamente ripagare io con questo video ho concluso volevo solo così aggiornare tutte le persone che mi chiedono sempre delle calle bianche delle calle colorate che fine hanno fatto eccole qua io penso che ne valga la pena avere almeno una pianta nel vostro giardino se la mettete fatemi sapere come è andata con le vostre calle colorate io dal mio laghetto vi saluto e alla prossima ciao 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 ciao